Avrebbe potuto prendere altre strade, scegliere di vincere di più a livello personale e di squadra, avere maggiori gratificazioni economiche. Ma la sua identificazione con Roma è sempre stata totale e nella sua città Francesco ha ottenuto qualcosa che va al di là dei successi sportivi e dei soldi, qualcosa che per un uomo vero come lui conta più di tutto il resto e ripaga di mille sacrifici. E' il momento del capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallo-rosso, del bimbo d'oro, con il numero 10, Francesco! Ciao! 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 Grazie per la visione!